Salve ragazzi, ero rimasto fermo qui a Predator Ho sistemato come ho detto il fatto dei tasti e spero di non fare cavolate E che volevo dire? Niente, eccomi qua, io devo fare cose per tipo diventare invisibile Vedere bene cosa devo fare, che potete Se non mi devo togliere, ecco, non c'è così, no, ecco Però devo dire che la prima è invisibile, ecco, pronto No, un po' più ora, aspettate Pronto? Sì, sì, tutto bene a te Eh sì, io devo andare a cambiare, non sono scordato Eh ma c'era lo pomeriggio, forse è meglio Eh sì, io dirò, ovvero che ho sbagliato E' ucciso, mio padre Ah, si era poi, si è alzato e poi... Poi è andato, poi è andato, poi Ok E lo so, lo pomeriggio lo cambio, ok? Ok Scusate ragazzi, tempismo, tempismo, tempismo La fortuna, allora Ehm, com'è, ehm, ecco Ehm, com'era, ecco A me mi serve quello là invisibile, vedete che sta là Quindi faccio così, eccolo, vedete Ecco qua, per affrontarlo, quadrato Ehm, ecco qua, vedete che No, ho sbagliato Ah, quanto sono imbecille Ehm, un attimo Torno normale Ehm, disattivo la visuale Ehm, sì, sì, ho sbagliato, ho fatto una cavolata Ehm, no, ecco Ho fatto una cavolata per ti do prima Ehm, e ho fatto una cosa Quando sono imbecilli Via Sì, sì, sì Vedete, ecco qua, ecco cosa dovevo fare Dove selezionare questo e poi, ecco qua, vedete che devo fare qua Mi ricarico Molto bene Bene Ho detto questo e io devo fare Vedete, devo prendere quei punti là che sono le missioni Mi ricarico Mi ricarico Però, dopo, ragazzi Eh, per reclaming Vittoria Ecco qua Però io adesso devo fare una cosa Insomma, mi dimentico Un cacchio Voi che mi trovo? No, poi No No Oh Bene Come sai bene? Ehm No, un attimo Devo abituarmi a sta cosa Perfetto Ehm Perfetto E però devo ditai Misi Buzza Oh no, non ci sono Non, non ci sono un'istauro, non ci sono un'istauro Non, non ci sono un'istauro devo riuscire a capire aspettate infatti che sono impeccato io devo preparare a quel tizio quindi devo sacrificare a quel tizio quindi che dovevi fare ah si devo togliere come si faceva no a me serve uffa ah ecco mi serve questo uffa no lo so ragazzi è un po' difficile no a me serve non è visibile vado vedete quanto non è facile ecco l'ho togliamo la visuale qui guardate finalmente non è facile vai muori è ora di ammazzare i copicchi i copicchi i copicchi in inglese come avevo detto sono signati a copio questi hanno copiato praticamente la mia tecnologia e non devono usare poi ci sta la missione bonus che io l'avevo fatto casualmente non è quindi spari spari guarda quanto è lontano un punto no mi serve un punto ah sono imbecille disattiva ecco 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 dove sto andando no no e lo so a bico sono un predator di un coglioni deficiente no eh no perché ma non posso rampicarmi se vengo un tizio qui a eccolo prossimo manca un altro voglio prima di prendere quell'altro voglio fare la missione bonus se no non mi diverto cura ah ecco un po' di carica si mi devo anche curare ok 1 2 3 ecco qua c'è una missione bonus ecco quello bene bonus mission complete bene ora sono a posto però adesso mi tocca ah forse so cosa fare però voglio prima andare a mano tanto so dove devo andare però come ho detto prima è visibile per forza salire qua sopra si 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 era staccato i rinforzi sono arrivati eh non si può stare gli invisibili qua ah ecco qua oh che cuore sta pure lì eh no ah togliamo questa visual nooo che l'ho fatto ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato mi piace scusatemi ma mi è piaciuto quello che è successo scusatemi succede succede ma in tanto si risponde un'altra volta quindi succede succede dai io sono una brava persona sono una bravissima persona non volevo nooo a a a a a a a a a la visuale scusami amico eh ho fatto una cavolata per un'epoca e poi questo è un po' di assassin creed, come ho detto prima quando vedi l'inizio del trailer bene, la missione dovrebbe essere finita, questa però ne sono un sacco di altre, spero di non perdere tempo come ho fatto nelle prime registrazioni che poi non ho più pubblicato ogni volta che faccio questi giochi voglio fare almeno il primo capitolo finito nessuno non ha visto effettivamente come la ma per la miseria come indovinare? Devo far fuori quella peste ok, però prima di andare a far fuori anche quella peste io faccio una cosa carina voglio farvi vedere un bel posto molto carino e cuccoloso ecco non posso fare, non posso entrare come è davvero sana da tavola non sai, non è bene no io non voglio essere capito come faccio con queste peste e ci sta una peste mi sta lì mi sentirebbe effettivamente no, a me mi serve no, a me mi serve e quello spara a fronte, a me serve per parte e lui e com'era sono un imbecille non so il combattere no, ma perché non so il combattere? no, per, per, non so il combattere non so il combattere ma qua il combattere è vero non so il combattere e non avevo visto che erano due comunque mi ricarico un altro oppure è molto male perchè guarda che mi serve delle logiche eh sì sì ok eh va bene un po' un altro da che devo andare ho visto un missile che non mi è piaciuto per niente ah come va come va devo andare da via sì 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 no 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 a me mi serve la visuale dannazione ah io non l'ho fatto la no 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 energia bellissima allora togliamo va dall'energia prima forse so come batte ma prima mi so molto difficile credo sono un imbecillo se come usare questo questo va bene devo usare... no uso un ottimo questo sono letteralmente ferito ma dai ma dai ma dai silenzio aia dolore mi ha scavato lo voglio sparare dall'alto o mi ha fregato no 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 eccolo eh eccolo eh allora pronto pronto è è inutile aspetta qualcosa mi sta attaccando qualcosa mi sta attaccando non 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 sapevo no ma ucciso no ucciso no ho fatto schifo e come faccia nient'acqua no 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 vabbè fai dolore ho capito dolore no no vabbè fra poco eccoci qua allora vediamo un po perché vi dico disabilitare ste besti come co'è ve lo sanno allora vabbè Non c'è nessuno che c'è nessuno che c'è nessuno che c'è nessuno. Oh, cazzo! Bella miseria Ma ho fatto leggermente male Bene Avrò pagino a pestare... Ah, ecco Altro generatore, subito Oddio, ho capito Cosa posso fare Belle bombe, ottimo No, ehm Ancora Questione troppo No 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 Guarda Ma con che vanno a scavare? Ah, sì, giusto Hai copyright, lì L'unico problema è che non riesco a battere quella bestia Come faccio Qualcuno mi spiega come posso agitare una bestia del genere How? I già Ancora Lui faccio ma c'è un po' se posso fare un'altra cosa oh cammino però muovi 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 ma dai ma dai ma dai se io devo impagare a quei esseri e come faccio il bagno no ma io mi devo saltare devo saltare devo saltare Ah, non sono abituato a questo gioco, giuro. Sono dei giganti, non vedete come faccio abituato? Come togliere le pomenze? Ah, io non posso arrivare. Oh, forse qualcosa posso fare. No, riprenditi, subito, subito. Qua è un po' che non lo piglia. Mi serve un generatore che racconto. Non sono. Gatta. Bene. Vediamo un po' come va. No, perché sono una cosa impossibile. Impensibile. Ma dai, com'è fatto a sgamarmi? Non su. Ha, buona cosa. Ho capito come si fa, bastardo. Ero te lo riprendendo. Quindi, per forse con questi artigli aggiornati, sì l'ho aggiornato per sbaglio prima e mi ho scordato di farlo vedere. Ma neanche a già... Ah dai, come ha fatto a sgammato? Ehi, ma ha sgammato proprio qui... Adesso non posso fare qualcosa di tutto. Beh, intanto sto eliminando se non ho rotto la posizione. Bella, finalmente. Bene. Tocca ancora altri due, mamma mia. Bene, andiamo. Vai riportare dalla sua mappa. Oh, rollo! Oh, ma poi? È un pelo occhio. Oh, no... No, come faccio a scoprire i giocatori? Aspetta o no? Guardate, ho sentito un catteling in arrivo. Qua me ne vado. Sto eliminando tutti quanti, mi fa più che piacere, ma non mi serve. Qualcosa che mi cura. Oh, aspetta, no, curare non. No, saliamo. La gente è scomparso. Il problema sono questi due, sono delle bestie e sono ognuno vicino all'altro. E questo non è una cosa buona. Che bello quando a volte è buono. Ma dai! Sì, grazie che mi sono dimostrato la mia posizione. Uno. No. Due. Ma perché? Ah, eh. Mentre viene, lo ha detto che? Si. Sì. Come, è fuori. Si. No, le ha detto esplodiamo. Sì, penso che non c'è. no no questo lavoro non è abbastanza energia oh ma stavano venute tre qua solo un secondo, solo un secondo, lo sapevo bene, fuori uno, fuori uno all'altro lo posso battere si si si, lo posso battere fanculo bene mamma mia, mi hanno rovinato, mi manca pochissimi ehm che ve ne fare per uno che sta giocando qua la tastiera, eh? questo significa saper essere il progetto del giocatore giocare sempre anche qua di G.com però non mi piace qua perchè qua sono troppi colorosi si proteggono sempre lrc insomma, non qua in questo baraggio non ci sono intanto e sapete che soltanto qui a dove sono? ah ma io questo non l'avevo caricato quanto sono imbecillo vieni, vado a fare ah si, beh ah 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 ai non c'è nessuno non c'è nessuno ah non c'è nessuno non c'è nessuno che non c'è nessuno Per fare gli attacchi ultimati, come si deve fare, si deve fare senza l'arma, senza il coltello. Non l'avevo mai considerato questa, eh? Oddio, no, 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 calma, 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 non c'evo, chi cacchio ti aveva visto? Ma passi anche per di qua, disgraziato, no, meno male. E chi ti aveva cazzo considerato? Cazzo considerato, non c'è una parolaccia. No, no, se non si è un po' di endere, mi devo pure curare. Ok. Nella miseria. finito passa qua bene e adesso mi dice che devo andare davanti bene, credo di sapere dove ero qualcosa che mi dice che vado in quella zona va al diavolo voi tanto vi vedo per fortuna ho un occhio ah siete ancora vivi, lo so non penso voglio solo cambiare ecco perché adesso non ce l'ho si perché con quello posso fare ok quindi il pesante è tornato al pesante questo era un giunglio diverso da quello che aveva lasciato e i nativi hanno forzato nuove pesanti dal pesante che aveva forzato 100 anni fa non abbiamo detto una cavolata in questo gioco nel primo capitolo ho detto che è riferito al gioco al film come si chiama Predator 2 no, non è affatto così però in questi capitoli rispecchia luoghi cioè prima del periodo degli anni 70 60 altri invece questo del futuro quindi continuo e siamo nel nuovo capitolo e ovviamente il nuovo capitolo lo faremo a passato però vediamo l'interno adesso è una persona un po' disgraziata questo in che periodo siamo? vedi che già diverso il luogo rispetto a come era prima un po' distrutto un po' distrutto bene aspettate aspettate fatta la cavolata fatta la cavolata aspettate no, no, ho visto un punto di riferimento perché non so dove andare che accende state caldo No, a quanto pare ancora nel capitolo del futuro, sì, se no non c'è un testito. Scusi! No, a quanto pare ci sono? Dai, adesso non lo vuoi, ci sarà presto a tu, dai. Guarda un altro, poi c'era un caglio qui, quindi vedi, l'arrabbi ha fatto, ma non so. E' un po' di te Assama Morti Manca solo due Allora Oh, sei stancato Allora Allora ragazzi Questa parte qui Che è molto non normale Si farà per la prossima volta Fui da sento il tuo passo Tecchio